ultimo incontro questa mattina nell'ambito della rassegna sette mari comandante prima della partenza del romeo romei il sottomarino della marina militare italiana che ripartirà alla volta di brindisi nel primo pomeriggio di domani col favore della marea nella cornice di palazzo grassi in riva vena chi oggi si è tenuto infatti il convegno organizzato nell'ambito dell'evento sette mari realizzato in collaborazione con la marina militare con l'associazione nazionale marina e d'italia con il patrocinio del comune di chi oggi e dell'autorità di sistema portuale e vari sponsor privati che hanno creduto nel carisma del comandante oscar nalesso per la creazione dell'evento lo stesso nalesso ha svolto il ruolo di mediatore in questa tavola rotonda che ha visto numerosi relatori che hanno parlato con passione e conoscenza del tema attorno a cui il convegno si è svolto la figura eroica del comandante sommergibilista salvatore todaro presenti sul palco il comandante di vascello minuto il capitano di corvette ancora il produttore del film comandante con cui si è aperta l'ottantesima mostra internazionale del cinema di venezia pierpaolo verga oltre a un'importante figura dell'autorità di sistema e a uno scrittore giunto per l'occasione da marina di massa presenti anche le figlie dell'attendente di todaro vittorio marcon dal quale hanno potuto ascoltare da piccole confidenze storie di guerra e di quotidianità in cui era coinvolto anche todaro impegnativo all'organizzazione dell'evento a cui si è dedicata anni 15 giorni che hanno visto gli organizzatori impegnati all'inverosimile da mattina a sera per la buona riuscita dell'evento un pubblico entusiasta ha accolto l'avvio di questa tavola rotonda tra loro anche una classe del morosini di venezia sono stati tre giorni meravigliosi ha sottolineato il comandante oscar nalesso aiutati anche dalle condizioni meteofavorevoli che hanno reso piacevoli anche le attese per le visite al sottomarino e lo spostamento da un evento all'altro il mare uno dei giudici implacabili per un comandante di qualsiasi mezzo navale l'altro l'equipaggio e todaro il mare lo ha conosciuto a chioggia come ha conosciuto le ciurme dei pescherecci chioggia si è formata la sua indole e da chioggia è partito verso l'accademia di livorno nel convegno si è dato risalto alla figura di un eroe rivalutata solo dopo la sua morte una figura inusuale nell'epoca fuori dagli standard e dagli schemi visto anche il ruolo che ricopriva lo scenario che l'ho visto protagonista lui come tutti i sommergibilisti dell'epoca italiani non italiani e di uomini mandati in missioni con mezzi certamente non adeguati ma quelli erano per tutti equipaggi affidati a comandanti trentenni che dovevano per forza di cose avere uno sprazzo del pericolo e una buona dose di coraggio coscienti che la ciurma e la missione erano sotto la loro completa responsabilità viste anche le difficoltà di comunicazione dati mezzi a disposizione dopo un interessante racconto del comandante minuto il quale ha riassunto la storia militare di todaro contestualizzata nello scenario storico dell'epoca e riportata nell'attualità e dopo un ricordo del rappresentante dell'autorità di sistema che ha riportato una vicenda similare narrata in famiglia e produttore verga ha voluto raccontare i motivi per cui si è cominciato a concentrarsi su todaro con lo scopo di riportare a galla questa figura e l'importanza del ruolo che ha avuto in passato ridandogli un valore diverso nel contesto storico attuale per alcuni versi completamente differente emozionate le figlie dell'attendente vittorio luciana e mara marcon nel raccontare una quotidianità ora per tal universo è straordinaria e appassionato il racconto di gianni bianchi scrittore di marina di massa che non volendo che alcune figure eroiche del secondo conflitto finissero nel dimenticatoio ha finito con lo scrivere di loro e todaro è una di queste il suo gesto quello che lo ha reso eroico non è stato un gesto singolo unico e raro né per todaro né per altri comandanti che hanno tratto in salvo i naufraghi da loro stessi colpiti ho avvisato di mettere in salvo gli equipaggi prima dell'arrivo dell'ordigno che non avrebbe risparmiato la nave ma come è stato detto era il ferro che si mirava non agli uomini a sottomarina nei luoghi in cui visse per un decennio gli è stata dedicata una piazza e una scuola molti marinanti hanno todaro come detto seguendo i vari interventi che pubblicheremo a breve conoscerete anche chi era questo nostro importante ed eroico concittadino buongiorno e buon inizio settimana allora continuiamo su questa saga dei granchi blu allora il video che potete vedere adesso si riferisce a una ripresa che ho fatto sempre io a marzo del 2020 questi che vedete sono dei pescatori diciamo professionali che pescano esclusivamente in laguna hanno i reti da posta i famosi cogoi in pratica e pescano i granchi e poi anche selezionano per avere la moleca che è un diciamo una prelibatezza il granchio era era il granchio nostrano quando cambiava la muta quindi era tenero ed era veramente andava anche a prezzi molto molto importanti le riprese successive che vedete sono lo stesso gruppo non è proprio la stessa barca ma è lo stesso angolo del canale lumbardo interno sono sempre pescatori professionisti pescatori che pescano in laguna in pratica sono specializzati nella pesca in laguna tra l'altro da da generazioni e come potete vedere hanno solo granchi blu e questa pescata che vedete che è di un quintale e mezzo di cui non sappiamo quanto tempo e quanto tempo le hanno presi ma penso che sia in giornata riferiscono che ce ne sono altre tanti e tra l'altro e tra l'altro dicono che anche ce ne sono anche altre parti ma lo sappiamo nei fossi in spiaggia in diga insomma stanno veramente hanno completamente occupato l'ambiente ecco l'unico che è stato a bocca asciutta come potete vedere c'è quella gazzetta che riguarda gli otto dati ne uno non hanno avuto da neanche quello ma questa è la notizia diciamo che la notizia del giorno vi invitiamo a commentare nel canale youtube e anche a iscrivervi sapete che c'è la campanellina e potete quindi iscrivervi al canale e diciamo e attivare le notifiche per ricevere quando pubblichiamo nuovi contenuti è un modo anche per sostenerci noi vi ringraziamo della vostra attenzione oggi pomeriggio lunedì 4 settembre nella sala del consiglio comunale si è tenuto un incontro internazionale moderato del presidente del consiglio di chioggia beniamino boscolo capon che ha visto la presenza del sindaco mauro armelao del nostro concittadino unico cittadino benemerito di chioggia luciano boscolo cucco e la presenza eccezionale di vincent tummino uno degli appartenenti al corpo dei fire department di new york che si trovò coinvolto nella tragedia dell'11 settembre con loro un traduttore d'eccezione riccardo lo faro uno dei maggiori biografi e ghost of writers di stars internazionali il cardine di questo incontro è proprio cucco un mecenate della cultura italiana e soprattutto chioggiotta volendo far conoscere il nostro territorio anche oltreoceano mister tummino non è la prima volta che giunge a chioggia venne accolto nella stessa sala 17 anni fa dall'amministrazione guarnieri ognuno tra i presenti ha portato la propria testimonianza di quel tragico giorno in cui le torri gemelle sono crollate a seguito di un attentato orribile un ricordo ancora troppo fresco nella memoria cucco che svolse il servizio militare proprio nel corpo dei vigili del fuoco è molto legato a questa istituzione anche negli states mister tummino che viene spesso in italia cercando occasioni per giungere a chioggia anche slegate da motivi di rappresentanza ha ringraziato per l'ospitalità e per le gentilezze che gli sono state rivolte un'amicizia fraterna ventennale quella che lo lega cucco riportata dalle stesse parole di lo faro che ha voluto sottolineare il calore che le loro azioni congiunte portano alla comunità e un'intesa solidale quella che si è manifestata dall'italia dopo l'11 settembre con la donazione verso gli states non tanto di denaro quanto di opere d'arte la solidarietà italiana si è fatta sentire subito sia dalla parte governativa che da parte delle persone comuni un momento comunque toccante da cui sono sfociati i punti che toccheremo nei prossimi servizi l'incontro si è concluso con il classico scambio di doni qui abbiamo delle cozze alla tarantina cozze con il pomodoro già così in vaschetta già pronto sono state messe dei crostini che è un tipico piatto italiano e del prezzemolo che da un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto ma ve la proponiamo come ci arrivata e questa mattina lunedì mattina ho incontrato un amico una persona assolutamente affidabile non è uno che che dice le cose tanto per dire e ci raccontava che insieme con un amico sabato mi sembra sabato pomeriggio erano sulla spiaggia del sand quando certo punto si sono girati e nelle loro vicinanze è emersa dice una focca monaca è stato un attimo poi questa si è immersa rimersa e non sono più riuscito a renderla ovviamente in acqua non avevano telefonino non avevano altre cose e quindi la focca è sparita allora pubblichiamo questo senza avere ovviamente immagini prendiamo un po di immagini e repertorio l'ultima volta che nel territorio abbiamo avuto anche quella volta non abbiamo avuto il video ma perché non sono riusciti proprio a riprenderla perché abbiamo più testimonianze diciamo dei turisti a isola verde e che sono passati mai più di qualche anno ma ci hanno confermato anche altri avevano affistato questa focca monaca ma evidentemente è abilissima a stare sott'acqua quindi la vedevano dare sott'acqua aspettavano di vedere dove saltava fuori e quando saltava fuori era un attimo non riuscivano a riprendere e poi qualche anno fa c'è stato anche un avvistamento non mi sembra che anche quella volta ci fosse una foto di un'altra foca si sembra sempre una foca monaca per quanto riguarda e nei canali di venezia addirittura comunque quindi vi proponiamo questo servizio e invitiamo se qualcuno appunto ha fatto degli attivamenti ma al momento non abbiamo sentito traccia se magari ce lo comunica approfittiamo anche ricordare di iscrivervi al canale e appunto c'è la campanellina e attivarvi per le per le notifiche che serve anche così se volete ovviamente se avete se siete contenti di seguirci se avete piacere dei contenuti che vi proponiamo appunto ci date un po' la mano a propagandare il canale che sta facendo dei numeri veramente molto molto importanti siamo molto contenti approfitto anche a invitare gli amici del send va benissimo che ci sia la musica siamo d'estate è giusto che ci sono le feste però alle due tre la notte basterebbe avere l'audio leggermente più basso leggermente più basso che comunque c'è festa lo stesso e avere un po' di rispetto delle persone che devono vivere e trovarsi alle tre le quattro la notte con dei rumori assolutamente incompatibili anche perché evitate perché credo che stiano facendo degli atti legali e poi alla fine arrivano i provvedimenti e li fanno chiudere come già successo poi non mettiamoci a piangere ma non ci fanno ballare ma questo quest'altro ecco comunque la moca moraca l'avete fatta ballare e quindi magari va bene così la nostra laguna i nostri ponti il nostro passatempo il nostro forte la nostra spiaggia la nostra birra obiettivo birra la birra nata a chioggia e prodotta in italia ciao siamo qui a centro storia oggi è settembre ma la giornata sembra ancora la stagione vediamo tantissima gente c'è gianna giusto che siete appunto a ricevimento una zona particolare o sbaglio sì noi abbiamo una zona appunto dedicata ai clienti solo adulti è una zona molto tranquilla dedicata appunto ai clienti che hanno bisogno di stare in tranquillità e in relax dove appunto abbiamo gli ombrelloni e anche i gazebi ognuno disposti di un tavolino appunto dove appoggiarsi le proprie cose appunto più tranquillità insomma non ci sono bambini per cui molto tranquillo accettiamo tutti perché vogliono stare in tranquillità noi ci siamo qui fino insomma a settembre e vi aspettiamo e grazie l'agenzia venice waterlink in collaborazione con la raffaello navigazione in aprile e maggio vi accompagnano da sottomarina venezia il sabato la domenica i festivi e alle isole burano murano e torcello la domenica per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venice waterlink puntocom e e Grazie a tutti.